Oggi siamo qua come ci sono tutte le associazioni lavorative della città di Mazzara del Vallo in sostegno della protesta che è partita dagli agricoltori tedeschi che poi si sono uniti quelli francesi, spagnoli, olandesi e finalmente anche in Italia gli agricoltori si sono mossi quasi dieci giorni che sono in strada, l'amministrazione si sta veramente allargando tutta Italia è in strada, notte e giorno e noi siamo in appoggio perché non è soltanto una manifestazione di categoria degli agricoltori, oggi qua ci sono i pescatori del Mazzara del Vallo ci sono gli agricoltori, gli allevatori, le attività perché siamo tutti messi in ginocchio io credo che ormai non è arrivato più il momento di chiedere la comunità europea ha portato in ginocchio tutti i popoli quindi questa manifestazione si sta coordinando in tutta Europa finalmente la gente, ogni stato è stato messo in ginocchio quindi oggi a Roma c'è un congresso con tutte le associazioni e categorie per vedere cosa bisogna fare perché questo è soltanto l'inizio della manifestazione che più andrà avanti più diventerà dura, diventerà forte perché non ci possiamo fermare perché la gente è veramente in ginocchio molte persone lavorano per perdere soldi ora ci sono impostazioni, la comunità europea sta facendo delle normative che vieta agli agricoltori di coltivare, stanno svendendo la pesca con aggiorazioni per chiudere le attività e chi lavora noi abbiamo il diritto perché devono portare avanti delle cose scelerate come le farine di grillo, i vermi, le carni sintetiche la nostra cultura è che dobbiamo pescare, abbiamo pescato sempre abbiamo fatto la piccola media impresa in Italia con il lavoro duro dei nostri prodotti, dei nostri alimenti e noi lo dobbiamo assolutamente difendere i problemi sono le direttive europee che noi ci rifiutiamo ad accettare perché non vogliamo spammare i nostri figli con le farine di grillo e ci rifiutiamo pure di fare una produzione con le farine di grillo la linea europea è sbagliata, sbagliata e sta distruggendo l'età europea cioè la comunità nazionale perché sta commercializzando i prodotti fuori dall'età europea e sta distruggendo il tessuto economico dentro l'età europea e ci sta portando a collasso siamo qua a scioperare perché oggi vogliamo distruggere agricoltura non è normale che ancora oggi, nel 2024, i nostri prodotti costano 50 anni fa perché questo è cosa è dovuto, perché vogliono far entrare i prodotti dall'estero e il nostro made in Italy deve scomparire non è normale che ancora oggi lo Stato ci deve dare dei soldi per non coltivare per far entrare le farine di grillo, per far entrare gli ortaggi pomodori dall'estero con un costo zero e noi moriremo tutti fra 10 anni, fra 20 anni, agricoltura qua in Sicilia morirà completamente se non cominciamo a ribellarci da oggi in poi noi, fra 10 anni agricoltura sarà morta da noi grazie a tutti